Via Libera del Consiglio Comunale di Andria ha la concessione a titolo gratuito di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di una nuova sede della compagna locale dei Carabinieri. Il terreno, di circa 3.500 metri quadri, è stato individuato nella zona PIP, in via Padre Leone De On. Il provvedimento è passato con i buti della maggioranza e del Movimento 5 Stelle, mentre invece necessitava di maggiori approfondimenti secondo i consiglieri del centro-destra che sul punto si sono astenuti, convinti che la zona PIP, nata a servizio delle imprese, non andasse snaturata e che altre collocazioni per la struttura dovessero essere prese in considerazione. Anche per la nuova caserma della Guardia di Finanza si sta procedendo ad analoghe valutazioni, ha poi spiegato il sindaco Giovanna Bruno. Due le aree sino ad oggi esaminate, entrambe ricadenti nella zona PIP, ma nell'ultima conferenza dei capigruppo è emersa la proposta di un terreno nel quartiere San Valentino. Consiglio Comunale ha continuato a confrontarsi sul tema della sicurezza anche con il secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla permuta immobiliare non onerosa tra Stato e Comune, finalizzata ad una migliore razionalizzazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni. Permuta che ha riguardato l'immobile di proprietà del Comune di Andria, dove è stata realizzata la sede della nuova questura e della Polstrada, e l'immobile di proprietà demagnale, sede del commissariato di polizia di Andria. Il valore di entrambe le strutture, valutato dall'Agenzia del Demagno, è di poco più di 1.200.000 euro. Il provvedimento licenziato dal Consiglio chiude il lungo e travagliato ITER, che ha portato alla realizzazione della nuova questura della BAT in via indipendenza. L'Assemblea ha poi approvato il regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di accessi e passi carrabili e dato il via libera alla transazione che chiude il contenzioso con la dottoressa Ottavia Matera per il riconoscimento dei compensi professionali maturati in occasione del patrocinio legale a favore dell'ente. Ultima parte del Consiglio comunale è dedicata all'informativa sul grande progetto di interramento della ferrovia nel tracciato urbano di Andria. L'ingegner Fabietti di Ferrotrambiaria ha esposto in aula tutti i passaggi cruciali del progetto, fugando i dubbi sollevati da diversi consiglieri comunali.